Dopo l'incontro in prefettura da parte del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per discutere del posizionamento dell'autoverox sulla strada 430, meglio conosciuta come Cilentana, è emerso, secondo il sindaco, che l'apparecchiatura è in regola, tanto che è stato posizionato un ulteriore cartello per implementare la segnaletica stradale. Noi siamo stati convocati in prefettura, era presente in prefettura, oltre ai dirigenti della prefettura c'era anche l'ANAS, c'era anche il ministero, insomma la nostra posizione è stata chiarita, mi auguro definitivamente, e quindi non mi sento io di annunciare ciò che poi alla fine sarà la comunicazione ufficiale che la prefettura vorrà fare, dovrà fare, però come al solito senza fare polemiche niente di particolarmente grave ci è stato imbutato, anzi assolutamente niente, abbiamo addirittura implementato la segnaletica, oltre quello che il decreto legge prevede, proprio per rendere visibile ancora di più il posizionamento dell'autovelox, abbiamo trovato un'intesa con l'ANAS, insomma tutto tranquillo, insomma chi vorrà fare polemiche la potrà fare sempre, perché si trova sempre il motivo per fare polemiche, ma come vedrete insomma anche nei prossimi giorni, quando la vicenda sarà ancora più chiara, le nostre posizioni saranno confermate e siamo tranquilli del lavoro che stiamo facendo.